E quindi frasi come ma chi ti credi di essere? Adesso vai lì, fai questo viaggio, condividi questi post, fai vedere che ti stai godendo la vita, come ti permetti? Non è che te la stai tirando troppo. Cosa fai? Torna dietro a tua scrivania, capochino, continua a scrivere i tuoi post e basta. Benvenuta su Shine, il podcast dove parliamo di crescita personale e spirituale, coaching e mindset imprenditoriale. Io sono Anne, sono una coach e fondatrice di Luna, scuola di coaching per l'anima. Sono qui per aiutarti a conoscere te stessa e a riconnetterti con la tua essenza più profonda, così che tu possa esprimere appieno il tuo potere interiore e far brillare la tua splendida luce. Allora, come sapete, se avete seguito la Shine Week, questo soggiorno in Costa Rica è nato tutto un po' quasi per caso, no? Una sorta di manifestazione e una serie di sincronicità che in qualche modo mi hanno portata adesso ad essere qui. E quindi per me la parte un po' più difficile era proprio questa, quella in cui sarei arrivata al co-living senza conoscere nessuno per affrontare queste ulteriori settimane da sola. Dovete sapere che io negli ultimi undici anni sono stata in una relazione molto, chiamiamola simbiotica, dove con il mio compagno facevamo praticamente tutto insieme. Lavoravamo entrambi da casa, appunto ci vedevamo praticamente 24 ore su 24, viaggiavamo molto ma sempre insieme. E quindi in questi ultimi anni era come se a un certo punto io mi fossi chiesta, no? Ma sono in grado davvero di stare da sola nel mondo? Sono in grado di esplorarlo da sola? Sono in grado di far fronte a quello che arriva sia a livello pratico sia a livello emotivo? E essere in grado di gestire tutto questo? Anche perché quando uno inizia a intraprendere un viaggio di crescita, a un certo punto emergono sempre di più quelli che sono le proprie aspirazioni, i propri desideri, quello che effettivamente si vuole davvero fare della propria vita. E nel mio caso c'era questo fortissimo desiderio di continuare a viaggiare, continuare a esplorare il mondo, senza per forza sentirmi vincolata a un luogo o a appunto una situazione che non mi permettesse di spiccare il volo. Quindi come vi ho già raccontato la Shine Week, tutto quello che è capitato mi ha portata poi a fare dei cambi radicali nella mia vita quotidiana e a ritrovarmi adesso qua in Costa Rica. Allora, per chi mi ha seguito un po' su Instagram, forse avrete visto che ho iniziato a condividere alcuni momenti di quello che sta succedendo qua. Allora, che cosa è successo qualche giorno fa? Mentre io condividevo foto di luoghi, di paesaggi, di pietanze, di cibi, di attività che stavo facendo, ho ricevuto un messaggio privato su Instagram da una persona che mi dice Ma i tuoi bellissimi post sulla crescita? Le tue profonde descrizioni? L'ascoltare l'anima? Dove sono finite? Allora, inizialmente quando ho letto questo post un po' sono rimasta sorpresa, no? Ho detto ma in che senso mi fa questa domanda? Poi però ho voluto cogliere questa domanda come spunto ulteriore di riflessione. Al che mi sono detta, ma qual è in fondo lo scopo ultimo della crescita personale o del lavoro interiore? Quindi qual è lo scopo per cui facciamo questo lavoro interiore? Perché ci impegniamo a lavorare su di noi e perché siamo dedicate alla nostra crescita? Perché è ok da una parte condividere post, portare delle citazioni, sicuramente sono stimoli molto utili. Sono stimoli molto utili per chi si trova di fronte a una difficoltà, per chi vuole superare un ostacolo, per chi sente che c'è un potenziale inespresso e vorrebbe andare oltre. Quindi tutto questo è sicuramente bellissimo e utilissimo. Il problema secondo me è se noi ci fermiamo lì, che tipo di crescita è quella? È una crescita esclusivamente mentale. Quindi se noi iniziamo a mettere le nostre energie, le nostre forze solamente in quello che è la riflessione o in quelli che sono belle espressioni, belle parole, un bel modo di condire e di raccontare queste cose, ok, ma poi dall'altra parte manca l'esperienza concreta, cioè l'applicazione concreta di tutto quello che effettivamente a livello di crescita poi diventa qualcosa che noi mettiamo in atto nella nostra vita. Quello è uno spunto iniziale, ma poi da lì è necessario che tutto questo lo integriamo nel corpo e quindi nella nostra vita reale e questo vuol dire di fronte alle situazioni quotidiane che hanno luogo nella mia vita come scelgo di rispondere agli eventi, cioè come metto in atto effettivamente quelle belle citazioni, come metto effettivamente in atto quei passaggi, quelle azioni che mi fanno paura perché poi quando usiamo la nostra vita o anche il business come campo di crescita è chiaro che quando queste cose vengono messe in atto emergono le paure, emergono tutti i vari sensi di colpa, emergono quelle parti di noi che in qualche modo creano resistenza. Capite? Quando noi effettivamente poi mettiamo in atto tutto quello che è il lavoro interiore, ciò vuol dire uscire nel mondo e andare a crearci la vita che desideriamo. Quindi per ognuno di noi è diverso. Nel mio caso, il mio forte desiderio era proprio quello di poter viaggiare e fare queste esperienze ad alta frequenza andando a vedere, ad affrontare le mie personali paure. Soprattutto ora che mi trovo qua in questo co-living senza conoscere nessuno e tutto quell'imbarazzo del, oddio, incontro persone nuove, come interagisco con loro, oddio, devo parlare inglese, riuscirò a farmi capire, oddio, ci sono queste situazioni sociali, non so se, come verrò percepita, eccetera, eccetera. Cioè questo per me, ad esempio, in questo caso concreto, è il campo, il campo da gioco dove effettivamente sto mettendo in atto il lavoro interiore. E quindi, vedete, quello che vorrei condividere con voi è quando effettivamente state facendo quel lavoro su di voi, come questo si ripercuote nella realtà? Cioè in che modo effettivamente poi viene concretizzato? Perché per venire qua a fare questo viaggio in solitaria, io personalmente ho dovuto superare tantissime resistenze. Ho paura di sentirmi sola, ho paura di non sapermela cavare, tutte le varie paure, dell'oddio cosa succede, sono in Costa Rica da sola, mi ammazzano in mezzo alla strada. Cioè tutte le cose che la nostra mente ci porta e che noi possiamo vedere, osservare con quel distacco necessario per capire che, ok, queste sono solo dinamiche vecchie, sono solo maschere e condizionamenti di un passato. Ora, in questo ruolo di adulta, ora con la capacità di vedere e osservare tutto questo, come voglio rispondere? E in particolar modo, io trovo che il lavoro interiore serva a ognuno di noi per essere sempre più in allineamento con noi stessi. Cioè se il nostro sentire ci sprona verso una meta o ci sprona a cambiare certe cose o ci sprona a prendere determinate decisioni che sappiamo hanno anche delle conseguenze sugli altri ma che dentro noi sentiamo fortemente allineate e necessarie alla nostra anima, questo è anche avere quel coraggio di guardare in faccia le cose e dire, ok, scelgo di cambiare il paradigma, scelgo di cambiare la modalità con cui ho sempre agito per fare qualcosa di diverso. E la cosa interessante, infatti il messaggio anche che ho colto in questo messaggio che mi è arrivato, è che quando noi facciamo questi passaggi, da una parte l'anima si allinea al suo, chiamiamolo disegno di vita, e arrivano sincronicità pazzesche. Quindi le cose iniziano a manifestarsi, quasi per magia, i pezzi si incastrano perfettamente e davvero accadono delle cose magiche. Quindi da una parte abbiamo questi segnali, questi segnali di sostegno dell'universo. Allo stesso tempo, dall'altra parte, è come se le persone che ci conoscevano prima in un certo modo inizieranno a mettere in discussione, mettere in discussione chi siamo, mettere in discussione chi siamo diventati, mettere in discussione la bontà e la genuinità di quello che siamo e facciamo. E questo capita molto spesso in una cerchia ristretta, quindi con le persone anche più vicine a noi, che è come se iniziassero a dirci, ma come? Sei cambiata? Non ti riconosco più, non sei più la stessa persona. Ecco, io credo che è normale cambiare, cioè se noi effettivamente stiamo svolgendo un processo di evoluzione, è normale che cambiamo, anzi è un qualcosa di auspicabile, perché se noi rimanessimo sempre uguali a noi stessi dal principio alla fine, vuol dire che appunto non c'è stata alcuna evoluzione. Quindi per forza che cambiamo. Il punto è in che modo le altre persone attorno a noi riescono a cogliere questo cambiamento e in qualche modo a ricalibrarsi su una nuova frequenza. E qui io trovo che siano come dei piccoli test che arrivano dall'universo attraverso queste persone per farci chiedere ancora di più chi sono io adesso? Chi sono diventata? Quanto mi sento allineata a me? E alcune persone in questo momento molto cruciale sceglieranno di ritornare là dove erano prima, proprio per paura del giudizio e per paura di scontentare gli altri. Viceversa, se si è in grado di stare in questa fase sapendo che è parte del processo, pian piano è come se chi non è più in linea pian piano si diliguerà da solo. È come se certe foglie secche cadranno in maniera naturale e al contempo questo creerà un nuovo spazio affinché altre persone più allineate potranno arrivare a voi. Quindi l'altro lato della medaglia, diciamolo così, del lavoro interiore è proprio questo che mentre si cambia, mentre ci si trasforma, mentre si evolve, cambia come siamo anche rispetto agli altri. se gli altri sono in grado di fare anche loro un'evoluzione e di vedere che ogni cosa comunque è giusta. Sono semplicemente eventi che accadono e che ci permettono di aprire gli occhi, di vedere in maniera ancora più precisa e di osservare da vicino chi siamo noi e soprattutto cosa sentiamo e cosa vogliamo per noi stessi. Quindi questo è un processo molto interessante e ve lo porto sperando che possa essere anche per voi utile come riflessione perché molto spesso la paura, no? La paura del cambiare, la paura di andare oltre è proprio quella di e se poi gli altri non mi accettano più e se poi divento troppo diversa e se poi non ho più quel contesto, quelle relazioni a supportarmi. Quello che sto imparando qua è davvero il potenziale che ognuno di noi ha anche quando si trova da solo. Devo dirvi che in questi giorni ho già conosciuto tantissime persone e mi ha sorpreso la facilità con cui ho comunicato con loro, cosa che normalmente sarei stata un po' più riservata e invece a un certo punto ti accorgi che è la tua mente e la tua mente, no? Che cerca di trattenerti. Se invece ti lascia andare, lascia andare il controllo e sai che semplicemente chi risuona rimarrà, chi non risuona se ne andrà, le cose avvengono in maniera molto naturale e possono aprire le porte a sorprese inaspettate. Qua ad esempio ho incontrato persone gentilissime che mi hanno offerto passaggi, mi hanno aiutato in situazioni difficili senza che io le conoscessi e anche da parte mia il fidarmi, l'aprirmi, affidarmi, dire ok, sono in un momento di difficoltà, arriva questa persona, mi offre la sua mano, mi offre un aiuto, d'accordo, accetto. Ecco, queste cose possono accadere. sta a noi iniziare ad aprirci e iniziare a dire sono me stessa, esprimo totalmente il mio essere, la mia luce, chi sarà in allineamento rimarrà, chi no si auto eliminerà. Ecco, bene, quindi questa era la condivisione che volevo portarvi, spero che sia utile anche per voi, fatemi sapere anche come voi mettete in atto il lavoro interiore ed effettivamente quali sono le sfide che state incontrando. E questa è anche una cosa interessante, credo che non è che le cose vanno sempre e solo bene, cioè, è bellissimo manifestare, è bellissimo agire in allineamento, ma vi assicuro che anche qua, dietro le quinte, sto attraversando molti momenti di, chiamiamoli tra virgolette, difficoltà, nelle quali effettivamente sto osservando le mie dinamiche e sto vedendo anche come avrei reagito un tempo e come invece adesso stanno cambiando certe cose. Questo, secondo me, è il bello della vita, la meraviglia della crescita ed è un processo continuo, in continua evoluzione. Se ti affascina il mondo della trasformazione e desideri creare impatto attraverso il tuo business, allora ti invito a Vita da Coach, il mio workshop gratuito in cui ti guido a vivere e a prosperare con il coaching. Lo trovi per un tempo limitato su ancoach.com slash vita da coach an scritto a-n-h con la h alla fine, quindi ancoach.com slash vita da coach